Paolo di Tarso è sicuramente l'incontro più emblematico, ma i Vangeli sono costellati di momenti chiave quando lo sguardo del Signore incontra quello della sua creatura. Durante la messa alla Casa Santa Marta, partendo dalla liturgia del giorno, Papa Francesco ha invitato i presenti a ricordare il momento esatto del primo incontro con il Signore, quando abbiamo sentito chiaramente la sua voce, quando ci ha chiesto di essere migliori. Lui mai dimentica, ma noi dimentichiamo l'incontro con Gesù. E questo sarebbe un bel compito per fare a Casa. Pensare, ma quando ho sentito davvero il Signore vicino a me? Quando ho sentito che dovevo cambiare vita, o essere migliori, o perdonare una persona? Quando ho sentito il Signore che mi chiedeva qualcosa? Quando ho incontrato il Signore? Perché la nostra fede è un incontro con Gesù. Questo è il fondamento della fede. Ho incontrato Gesù come Saulo oggi. Ho incontrato Gesù. Ora го